e soprattutto al benessere al femminile perché è una puntata quella di oggi estremamente interessante quindi anche in diretta sui nostri canali social saluto e ringrazio quella che è una nostra amica perché è anche un nostro sponsor che è la Paul Passion Academy è venuta qui a trovarci proprio la titolare che è Federica De Luca buon pomeriggio Federica grazie di essere qua con noi buongiorno buon pomeriggio a tutti buongiorno allora buongiorno buongiorno Federica Paul Passion noi ti abbiamo già visto spesso in azione nella tua palestra con tutte le tue allieve però oggi sei venuta e perché tra l'altro anche il nostro amico Francesco Montalbano è venuto a provare no sto scherzando no non ci sono ancora riuscita ma Francesco ci riuscirò a farti provare qualcosa non lo so non lo so non lo so va bene dicevo Federica c'è un nuovo progetto studio corso come si può chiamare programma ok programma rivolto alle donne e tu mi hai detto è una bomba funziona è una cosa cioè è un po' riduttivo così allora innanzitutto ti dico com'è nato io ho 42 anni quindi insomma sono giovane ma un po' di malosezione ci vuole dopo la mia seconda gravidanza nonostante io sia un atleta da sempre ho fatto anni di danza eccetera eccetera ho preso i canonici 20 kg mio figlio era a due anni il piccolo e facevo molta fatica a perdere peso fondamentalmente ma più che peso centimetri perché il corpo poi chiaramente cambia e come tutti gli atleti spesso si va incontro praticamente a degli infortuni quindi ho detto devo trovare un qualcosa di alternativo ecco intanto mentre tu parli stiamo facendo vedere questo video che tu hai messo anche sulla tua pagina per annunciare la partecipazione questa sera qui da noi a Ciao Como si intravede delle signore, ragazze, donne che si allenano anche perché la cosa che Federica diceva prima ed è giusto ricordarlo la vostra sostanzialmente è una palestra di donne per le donne solo al femminile creata da una donna a parte Montalbano che magari lo accetta Montalbano ogni tanto viene a prendere il caffè però non si è allenato non si è ancora allenato non ci sono ancora riuscita a parte Montalbano è una palestra di donne per le donne dai 3 ai 99 barra 100 anni la nostra allieva più grande ha 86 anni ah però ci siamo però tornando a noi praticamente avevo necessità proprio di trovare un qualcosa che soprattutto in tempi stretti perché chiaramente essendo mamma lavorando dovendo preparare le lezioni non ce la facevo a fare 50 mila allenamenti quindi un allenamento completo che mi consentisse di rimettermi in forma di rimanere mobile elastica di perdere centimetri perché assolutamente era necessario che fosse stimolante e che però mi allenasse anche senza praticamente continuare a mettere massa perché è un muscolo molto proteico quindi subito praticamente divento stile culturista ed è nato NTF New Body Transformation Formula sì esattamente è un allenamento completo adesso lo stiamo testando sulle prime ecco qua questo è l'allenamento signore e signore e signori e signore soprattutto perché questo come diceva Federica è arrivato sicuramente al mondo femminile è una palestra dove un uomo verrebbe guardato un po' strano è tutta rosa tutta rosa quindi esatto però però mi dicevi Federica no al di là di tutto che hai avuto avete avuto comunque dei risultati concreti io nel mio piccolo in un mese e mezzo ho perso 5 centimetri di coscia e 4 centimetri di punto vita proprio presi centimetri però questo no per essere onesti ovviamente a chi ci sta ascoltando comporta un allenamento quotidiano metodico allora nel mio caso ovviamente perché molti mi dicono questo è il tuo lavoro ok io 4-5 volte a settimana lo faccio però l'abbiamo l'ho iniziato a testare sui miei agonisti che sono state le mie cavie fondamentalmente perché ho visto che funzionava così bene ho detto ma sì glielo metto come riscaldamento al programma che facciamo al sabato loro facendolo una volta a settimana hanno notato prima di tutto una diminuzione dei dolori perché andiamo a lavorare non solo i muscoli principali ma anche i muscoli profondi e soprattutto i muscoli piccoli che spesso sono trascurati andiamo a rafforzare i tendini i legamenti e rimaniamo molto mobili quindi questo che cosa comporta che se tu hai dei dolori articolari muscolari eccetera il muscolo piccolo va a supporto del muscolo grande entriamo nel tecnicismo e fa sì che il dolore praticamente passi quindi anche persone che fanno già allenamenti praticamente importanti ne hanno aggiornamento poi ho iniziato a testarlo su altre persone che hanno voluto provarlo persone non allenate persone che magari appunto facevano altri tipi di sport ma non a livello agonistico persone in sovrappeso e tutte non solo sono entusiasme entusiaste perché come dico io studia anche l'acqua del battesimo cioè veramente intenso ma hanno notato perdita di centimetri tono della pelle migliorato mobilità anche anche i dolori mi dicevi che ecco ma scusa federica è a vederlo così ora non abbiamo il sottofondo è musicale anche è un ecco come addirittura non è parlata la lezione ed è voluta questa cosa c'è anche senso è solo musica cioè c'è la musica e non dai le indicazioni do le indicazioni brevemente all'inizio dell'esercizio però poi è fatto proprio perché tu ti devi entrare praticamente in contatto con il tuo corpo con la tua muscolatura e con quello che stai facendo che è una performance tutte le settimane cambiamo la lezione perché cambiamo la lezione perché il corpo deve continuare ad allenarsi rimanere mobile quindi se io lo alleno sempre la stessa maniera il mio corpo se io faccio i bicipiti di continuo cosa posso fare per allenarlo ancora aumento il peso ma sempre questo devo fare certo 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 invece noi lo scopo è quello proprio di continuare ad allenarlo ma rimanere flessibile rimanere femminile perché una donna chiaramente ci sono donne a cui piace magari mettere massa però io sono donna voglio comunque rimanere mobile voglio comunque essere elegante sinuosa voglio ritrovare me stessa quindi un modo per invecchiare giovani per così dire ecco e tra l'altro adesso sto facendo vedere anche un altro rilla che voi avete fatto che parla del 9 luglio come diciamo data per per una prova però mi dicevi che questa prova è già sold out alle 19 ecco 19 è sold out alle 20 c'è ancora posto abbiamo messo un altro orario alle 20 ecco quindi sappiate sappiate che c'è ancora qualche occasione per andare a provare questo new transformation ntf new body transformation formula lo fate in palestra da voi lo facciamo in palestra via panilani 41 via panilani è la zona diciamo di tanto per intenderci quella che che porta tra como e camp nago ok la via panilani lo potete fare il giorno 9 alle ore 20 su prenotazione scriveteci un whatsapp al 338 39 25 230 dicendo che volete aspetta aspetta però ricordalo federica perché poi se no con calma il numero di telefono prego 338 39 25 230 ci scrivete un whatsapp noi ci teniamo che tutti i nostri corsi siano a numero chiuso questo a maggior ragione dovete avere la possibilità di muovervi liberamente quindi se siamo in 800 in una sala non vi potete muovere devono venire come un abbigliamento sportivo adeguato la lezione poi si tiene materassino perché c'è una parte in piedi ma poi il grosso è sul materassino viene fatto con dei pesi leggeri quindi pesetti da un chilo un chilo e mezzo cavaliere da mezzo chilo ma la prova noi la consigliamo a corpo libero perché andando a lavorare gli angoli e le sfumature della muscolatura chiaramente è un allenamento che è nuovo per il corpo di chiunque fino adesso tutti quelli che l'hanno provato sono entusiasti noi adesso stiamo facendo questo test e per tutte le persone che ci vogliono dare fiducia adesso ovviamente che parteciperanno il 9 avranno anche una promozione speciale quindi il 9 luglio amici lo potete provare questo nuovo questa nuova formula che federica appunto ci sta spiegando questa sera polpession academy nostri amici nostri ormai storici sponsor da tanto tempo e quindi è venuta qua perché ci voleva appunto presentare questa iniziativa davvero molto interessante rivolta soprattutto ecco lo vedete lo vedete chi ci sta guardando c'è anche la diretta radio ovviamente chi ci sta in radio lo dobbiamo cercare di trasformare loro ecco è una iniziativa rivolta al pubblico prevalentemente femminile chi guarda invece sui social vede che ci sono tante donne che si stanno anche divertendo pare federica giusto stanno provando in tantissime delle nostre allieve in questo momento però abbiamo deciso perché hanno detto ma tu dovresti farlo provare anche gli altri perché all'inizio ripeto per una cosa solo per me però è giusto trovato un qualcosa che funzioni voglio far sì che le donne di como possano beneficiarne se hanno voglia o se anche semplicemente volete provare qualcosa di diverso ci siamo luigi un saluto anche a te non so se tu vuoi andare a provarlo è una cosa come detto federica comunque è rivolta prettamente al pubblico femminile ovviamente no ma luigi è il nostro amico ci segue sempre ciao luigi un saluto a te ecco questo è il ntf messo appunto dalla polpation academy appunto di federica che è qua con noi quest'oggi che ovviamente saluto ancora e ringrazio di essere intervenuta qua per questa presentazione quindi che dire pubblico femminile se vogliono possono presentarsi su prenotazione però mi raccomando il giorno 9 ok è importante che altro c'è da dire allora basta che facciamo al di là beh ecco no beh brava perché polpation polpation non è solo questo ntf che pur è importante ma è anche altro avete anche tantissime bambine ragazzine bambine abbiamo tantissime bambine tantissime donne abbiamo che si allenano tre campioni mondiali quattro campioni europei tantissimi campioni nazionali perché fanno appunto pole dance cerchio aereo tessuti aerei facciamo danza facciamo acrobatica e poi facciamo balle snella per le signore che come che balle snella dimagrite ballando tutte le signore che vogliono rimettersi in forma divertendosi con il ballo abbiamo anche ballo anti age che è un format dedicato alle donne over 55 che vogliono fare movimento migliorare la mobilità ma ballando ecco c'è tanta roba c'è tanta roba c'è il ballo esatto ballo declinato in varie in varie sfaccettature chiaramente lo scopo come diceva federica è quello poi di invecchiare giovani ecco esattamente e di stare bene perché appunto questo è molto importante da pole passion quindi lo potete fare tranquillamente noi l'abbiamo ricordato quindi questo nuovo nuova formula la potete sperimentare però settimana prossima giorno 9 martedì 9 alle 20 dalle 20 perché quello delle 19 è già sold out e non c'è posto neppure pagarlo ecco e poi perché io ho visto davvero anche le tue bambine davvero fare delle evoluzioni pazzesche ecco anche per i genitori che volessero magari avvicinare le bimbe alla danza acrobatica e non c'è davvero di tutto è un'altra cosa dato che sono mamma e so che cosa significa noi abbiamo i corsi per le mamme in concomitanza quelle delle bambine così venite portate la bambina la bambina si allena voi vi dedicate un'oretta a voi senza sensi di colpa perché noi mamma e bambina la bambina fa ere e la mamma decide se vuole fare ntf se vuole fare pole se vuole fare balesnella se vuole fare flessibilità è stato fatto apposta perché cioè noi mamme spesso ci mettiamo da parte perché dice però io devo prima portare mia figlia di qua mio figlio di là eccetera eccetera si possono fare tutte e due sei lì porti tua figlia e tu nel frattempo mentre tua figlia ti diverte ti prendi cura di te e visto che montalbano anche lui ha due figlie secondo me potrebbe essere l'occasione esatto 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 quindi montalbano volendo anche tu se vuoi metterti alla prova con piacere no lo dico scherzando perché so che è un tuo amico esatto e che quindi ci teneva molto al fatto che tu venissi a presentare questo ntf va bene federica grazie pol passion academy via panilani allora ve lo ricordiamo settimana prossima questa prova e però poi c'è tutto il resto chiudete agosto no facciamo delle lezioni faremo anche un summer camp probabilmente ntf con tante sfumature e dell'aerea quindi se siete in città magari chiamateci comunque vi venite a fare qualche allenamento grazie federica un caro saluto e grazie ancora di essere venuta a trovarci grazie a te ciao federica ci vediamo presto grazie grazie